Polenica in Russia dopo l'abbattimento di un osso Bruno che era riuscito a entrare in un centro commerciale in quel momento chiuso di Kabarovsk nell'estremo oriente russo dopo aver probabilmente cercato cibo tra i negozi, l'osso è uscito dall'area commerciale ed è stato abbattuto nel cortile di una scuola materna senza attendere l'arrivo dei servizi veterinari.